Scusatemi per questo scrutamento, è solamente che questo qui è il primo video con la webcam in un gameplay e quindi non sono tanto abituato Comunque, salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono Lamber e oggi siamo tornati qui su Resident Evil Village Nello scorso episodio siamo usciti dal villaggio cercando sopravvissuti che poi vabbè sono morti tutti E mentre qui c'è il duca che fa versi, sta dormendo Ok, vi devo raccontare come sono finito per essere stato catturato da un certo Heisenberg per poi riuscire a scapparli e finire nel castello Dimitrescu Lei continua a dormire, non la disturbo mica E adesso iniziamo a cercare, credo le quattro maschere che dobbiamo mettere sopra questi altari Dato che dovrebbero servire per aprire queste porte, non so dove porti Il problema è trovarle queste quattro maschere, chissà dove si potranno trovare qui all'interno del castello, all'interno dei camini come al solito Nah stavolta no, magari qui al piano di sopra possiamo trovare qualcosa, ci sono davvero tante porte La stanza del vino, una bottiglia speciale, devo mettere qui dentro una bottiglia allora Va bene appena la troverò saprò dove usarla Comunque fatemi sapere cosa ve ne sembra della webcam in questi nuovi video dato che abbiamo appena iniziato ad usarla Ecco qui mi sa una delle maschere da Angelo, un occhio incompleto E abbiamo l'anello con l'occhio rosso quindi forse posso inserirlo Non lo posso usare questo oggetto così, forse devo togliere l'occhio dall'anello Ecco fatto, benissimo E allora adesso lo dovrei poter inserire, occhio rosso Sembra che abbia funzionato Non c'ho nessuno dietro vero? Ok questa qui dovrebbe essere una porta, proviamo a controllare cosa c'è qui dentro Una delle figlie Una delle figlie che sappiamo che controllano gli insetti Però forse è passata senza vederci Gli insetti mi sono entrati nella mano, ma che schifo Ok sono più pericolosi di quel che pensassi Corri Ethan, corri Sì la prima frase che ha detto è stata la meno La meno rassicurante Io qui devo cercare di scappare da te mentre qui è pieno gli insettini Dove vado? Ok devo sfondare qui, vai Vai, sfonda tutto e corri Continua a correre Mi sa che devo sfonderò qualche piano Ma vabbè, fa niente L'importante è la nostra sopravvivenza Mi starà seguendo anche qui? No, forse già mi ha perso Buon per noi 9 giugno 1958 Ok significa che qui c'è gente da un bel po' di tempo Questo messaggio è di 60 anni fa Quindi Oggi è stato il primo giorno di lavoro al castello Sono rimasta di stucco quando ho scoperto che le dipendenti sono tutte donne La signora del castello e le sue figlie hanno promesso solennemente di non mordere È stato molto strano Quindi sì abbiamo capito che bevano sangue Credo che siano vampire Qualche giorno dopo invece scrive Sono trascorse due settimane da quando ho iniziato a lavorare al castello E mi sento un po' spaventata Adela un'altra domestica ha fatto un errore La signora Daniela l'ha salita tagliandole il viso con un coltel Ok di sicuro non è per niente rassicurante Io già mi sarei licenziato Di notte sento l'eco di lamenti Come se i corridoi fossero infestati da fantasmi Voglio tornare a casa 8 luglio 1958 Non so cosa fare A cena le signorine si lamentano del caldo soffocante Quando ho aperto la finestra solo uno spiraglio Chiudila, chiudila subito Hanno urlato in coro Oltre ore che mi rinchiudono per sempre in cantina Non so cosa fare, non so cosa fare L'hanno rinchiusa qui per caso In caso mi dispiace per lei Quindi queste tizie sono in circolazione da 60 anni Ok abbiamo capito che sono anche immortali Mi sa che tutta la servitù è morta Perché non l'abbiamo per niente vista E forse i lamenti che si sentivano erano stanze per torture Detto che a quanto pare le piace Oh c'è la signora Dimitrescu qui dentro Devo dire è molto bella Però diciamo che non voglio essere sventrato da lei A quanto pare si abbassa per entrare nelle porte Che tristezza Cioè sei qui da 60 anni e continui ogni volta a piegarti la schiena per passare nelle porte Ma restrutturale no? Comunque mi è sembrato che avesse in mano una bottiglia di vino Forse è proprio quella che ci serve Quindi adesso andremo anche a seguire Vediamo Qui è aperto No si è chiusa dietro Quindi dovremmo fare un giro un po' più largo Signora Dimitrescu è qui da qualche parte In caso sarebbe bello prendere quella bottiglia senza farci vedere Sarebbe un gran vantaggio per noi Cos'è sta salamo? Ethan non mi dici niente? Dovrò fare qualcosa Forse muovere questo fino ad accendere i braceri lì Ecco Ogni tanto il mio genio mi sorprende Perché veramente Vabbè era una roba abbastanza ovvia Però il fatto che io ci sia arrivato è comunque sorprendente Ecco fatto Due braceri accesi e mo? Ah madonna Addirittura si apre tutto Credevo che si aprisse una botola sotto di me Ethan ce l'hai la torcina Non si vede una ceppa di niente Ah ecco bravo Non mi piace sta zona Vernice nera Mi sa che qui venivano incatenati e torturate persone Guarda qui no È ricoperto di sangue rappreso Controlliamo cosa c'è per di qua però Sperando che non siamo circondati dalle altre figlie di Demitrescu Posso visitare però le varie celle Magari trovo qualche Questo qui non è qualcosa che volevo trovare Non vi avevo visto Ci sono gli affettati qui Un messaggino Candidate Irena Mia Lena Luis Ingrid Scartate Vabbè una serie di nomi Ma in che senso scartate? Forse bevevano il sangue delle prescelte Irena Appetito robusto Mia Lena Appetito robusto Lo ha Appetito robusto Ingrid instabile A tratto eccessivamente vigile Ma che esperimenti folli stavano procedendo qui sotto? Appetito Ma buon salve Sento le versi brutti Non mi dire che hanno trasformato Alcune delle loro domestiche in mostri con appetiti Cioè che adesso vogliono mangiarci Oddio Sarebbe meglio evitarle Mi sa che qui vicino c'è qualcosa Lo sento Non troppo distante Oddio Ah eccovi Come va E mi sa che sono diventate dei mostri Queste qui Quindi ce ne dovrebbero essere massimo 4 no? Sarebbe però è meglio non combatterle forse sai? Meglio continuare a scappare Perché cos'è questa musica incalzante? Bomba artigianale Oddio Me l'ha messa al quarto punto Allora però Fammi allontanare da loro Mi hanno circondato cavolo Non vi posso lanciare la bomba se sono circondato Fatemi passare grazie Venite per di qua per favore Anche lì va bene no? Si sono allontanate ma siete comunque esplose Ok Due credo che siano morte E' impazzita cavolo Cranio cristallizzato Credo che sia uno di quegli oggetti di valori Che possiamo vendere al duca Ok 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 Infatti mi hanno dati due Spero che fossero soltanto loro Tutte le altre erano state scartate vero? Mmm non lo so Mi piacerebbe se non ci fosse più nessuno qui Però dai mi hanno dato oggetti di valore Con cui far qualcos'altro Ok a quanto pare non erano soltanto loro E spuntano dal terreno Cavolo Dai che forse una l'abbiamo quasi uccisa La stiamo Continuando a trafiggere Trafiggere di colpi Mi sa che qui sarebbe meglio usare il fucile a pompa Testa esplosa? Spero di si Anche a te E pure per te Oddio Era ancora viva Era ancora viva Collana di Ingrid Quindi lei era Ingrid Chissà che cosa serviva la sua collana Ho fatto bene allora ad ucciderla Ingrid era quella con l'appetito instabile No ce ne sono altre No allora mi avete un po' anche stancato Eh fatemi scappare Non voglio sprecar tempo con voi Ricarichami il fucile E continuo a correre Eh cosa c'è qui? Una di quelle porte Però craftami una soluzione medica Che me la voglio fare Tanto che sembra che non sia messi troppo bene Ci abbiamo la vita in basso a sinistra Ti avessi ucciso subito Che cosa vuoi da me? In che senso è solo Cassandra? Chi Quando è che mi ha ucciso Cassandra? Scusi Aiuto scappiamo Vabbè Per voi forse Per voi Fammi scappare Insettini via da me Devo passare Ok Le loro riescono a passare attraverso le sbarre Perché riescono a Suddividersi in insettini Comunque non voglio affrontarle Mi sa che sono troppo potenti Sarà meglio scappare da loro Un po' come quando Trovavamo Jack nel Nel settimo capitolo Ciao Ah ok Speravo di potergli sparare Ma in realtà Mi ha fermato I proiettili Non mi fanno nulla La vita Ne ha appena sprecato un caricatore Che cos'è? La luce del sole Ok Sembra di no È morta? Sta morendo? Stupido Moncolo Adesso la posso prendere forse Boss battle Boss battle A quanto pare c'è il vento Che li Bastardo Li rende più deboli Forse Ah il tuo traballare Mi dice qualcos'altro Boom Dimmi che stai a morire Ti supplico Aia Aia No Statti buona Mi hai palesemente tagliato La gola Però fa niente A quanto pare È il vento La neve Che li rende più deboli Si è petrificata? Ciao zia Busto cristallizzato Ma è morta? È su È seriamente morta Così facilmente Una delle figlie di Mitrescu O forse è tipo Uno stato di morte apparente Non ci tocca che scoprirlo Andiamo È stato abbastanza facile In realtà Però vabbè Effettivamente avevamo un bel po' Di colpi del fucile a pompa Adesso li abbiamo quasi terminati E qui c'è la bottiglia di Mitrescu L'ha lasciata qui Che fortuna Possiamo prenderla E scappare da qui forse Non proprio velocemente Però possiamo già far qualcosa E qui c'è Che cosa è questo? Freno di bocca Quindi monta parte La metto qui E quindi adesso credo Di averla potenziata Va bene E ci sono ancora un bel po' Di cose che dobbiamo scoprire Qui intorno Vediamo Posso sbloccare questa porta enorme E sono tornato alla sala principale Però prima fammi esplorare un attimino Questa zona Ethan Perché magari troviamo qualcosa di utile Infatti c'è della polvere La sparo E un'altra porta Di sicuro qui non posso usare La bottiglia che a quanto pare non è di vino Ma è di sangue Ok questo qui è più raccapricciante Di quel che pensassi E in questo momento allora facciamo una cosa Torniamo dal duca Benissimo ho fatto un acquisto Che davvero ci svolterà Dato che ho comprato Un progetto per poter Craftare i proiettili Fucile a pompa Quindi possiamo crearli Tre per volta Ma già Cioè Bastano Siamo riusciti a raggiungere nove proiettili Ma Buon così Tra l'altro voglio farvi vedere una cosa Sbaglio La mia vita è diversa Di solito prima Scorreva tutto normale Senza problemi Adesso sembra che spuntino Dei cerchi Vedete Non è che sono infetto Sto per diventare anche un lupo mannaro O qualcosa del genere Non so proprio convinto della situazione Adesso credo di poter andare a mettere La bottiglia che abbiamo trovato Al piano di sopra Quindi proviamo ad andare Era proprio qui dentro Quindi la inserisco Dovrebbe andare tutto bene Cosa ho fatto? Non lo so Però sento dei rumori Porte segrete Ah porca vacca Quante ce ne sono in sto castello Polvere la sparo E nient'altro Sì ovviamente c'è qualcos'altro Vediamo Chiave del cortile Dove si deve usare? Non ho visto porte per un cortile Ok allora Presa questa chiave Cerchiamo di capire Dove poterla utilizzare Non saprei proprio Quindi Dov'era un cortile qui? Vuoi vedere il castello? No non lo voglio vedere Oh cavolo si è frizzata la camera Ciao zia Oh cavolo Adesso che cosa faccio con te che mi segui? Eh tenitela secca Mi scusi Allora mi sa che Finchè son così Non gli faccio proprio niente E allora provo a scappare Dove ho ucciso la sua sorella No? Magari lì la posso Uccidere anche lei Che ne so Che ne so Magari Sì tu seguimi Seguimi Zia Vieni Vieni verso dove sto andando io Non ti succederà assolutamente niente Stai arrivando vero? È sparita nel nulla Ma allora perché è spawnata Mi scusi Cioè è arrivata da qui no? Ci sarà qualcosa qui Che non avrò visto Questa porta qui E questa qui La porta del cortile? Sì Sembra di sì Sembra di sì Mi stava semplicemente bloccando questa via Ma buongiorno signor cortile E allora adesso abbiamo sbloccato questa nuova area Iniziamo ad esplorarla Distruggendo vasi Adesso Oltre a spaccar vasi Ci sarà qualcosa che potrò far qui Tra l'altro Non hanno ancora scoperto che Ho ucciso una delle figlie Quindi Buon per noi Qui sembra ci sia una porta speciale Devo trovare un'altra chiave Ma che cos'è sto gioco adesso? Trova chiavi Mettile nelle porte Trova altri chiavi E metterle in altre porte E che dumaroni ma Qui ci dovrà essere per forza qualcosa Una di queste porte dovrà essere aperta Animazione Ho paura Cosa capita Ah c'è Dimitrescu Non mi ha visto per puro bucio del culo In quest'area quindi ci sarà Dimitrescu Va bene va bene Speriamo di non trovarcela troppo presto davanti Altrimenti qui siamo veramente fregati Dimitrescu credo che sia la più potente in questo castello Rispetto alla sua prima figlia che abbiamo sconfitto Mi aspetto che sia dieci volte più forte Se non di più Quello lì sarebbe un problema Si rompo i vasi però Ma ancora non hanno notato che sono scappato Cioè le figlie non hanno detto Oh winter sta scappando A meno che non c'hanno uno strano gusto Nel cacciare le loro prede Anche se abbiamo ucciso le sue figlie Che cosa hai fatto a mia figlia L'ha scoperto per di qua eh Forse non lo so Ah ma ha scoperto cosa ho fatto a sua figlia Cavolo Che significa che mi sta per venire a prendere Ok qui c'è un lago di sangue Chissà dov'è in questo momento Forza non preoccupiamoci troppo Magari riusciamo anche ad evitarla Se riusciamo a scappare da lei è fatta Comunque fammi vedere sto lago di sangue Evitiamo di entrarci dentro Ok magari ci sono pure malattie Tutto sto sangue Magari qualche malattia venerea Che cosa devo fare qui dentro Sembra un bagno Questo qui è il vostro bagno Cos'è? Perché posso Posso interagirci? Ruota statua What? La dovrò mettere in ordine specifico Eh mo Qual è l'ordine specifico? Forse tutte quanti che guardano il lago No sembra che vadano in due direzioni Sta tizia con la bottiglia di qualcosa Che guarda la zia che c'è il bicchiere in mano E loro che guardano il tizio cavallo Si prova? Funziona? No Che devo far qui? Ah le donne conservano deliziate dal signore a cavallo Sono corteggiate Da lui i disperati vogliono farsi notare Così che il vino possa sgorgare Un attimo Quindi il signore a cavallo deve guardare la donna Perché le corteggia Quindi la tizia che è per di là Mentre Sti tizi qui guardano Lui E va bene così Ok 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 Funziona funziona Probabilmente bisognava seguire i loro interessi Lei deve Accontentare la sua padrona Suppongo Lei invece vuole semplicemente flirtare E loro vogliono la sua attenzione Ok Posso scendere per queste scale Si è aperto Dal Dal mare di sangue Va bene Ethan usa le scale Vediamo dove stiamo andando a finire Questo castello enorme E sembra che non finisca mai Buongiorno Ma che succede qui sotto c'è un capretto Madonna Era un collezionabile Non l'avrei mai sospettato Ma che cazzo Ethan Già ti sei immerso in del sangue poco fa Rifacciamolo A quanto pare Gli piace così a loro Speriamo di non trovare niente di pericolo Ma io devo star zitto ogni volta La devo smettere di gufare sul serio E' sparito Va bene Va bene Va bene Anche se mi sa che rispunterà fra pochissimo Buongiorno Lei è una delle servitrici di Di Dimitrescu Muoia Su via Muoia Ecco Non sono troppo resistenti A differenza dei lupi mannari Quelli lì sì che erano Dei gran bastardi In tutti i sensi perché erano mezzicani L'entità che si buttano nel sangue Mio dio Si Stia ferma Perdi qua Nell'unico corridoio che è disponibile C'ho qualcuno dietro C'ho qualcuno dietro sì Ma lei sembra il caso Lei sembra il caso Adesso le sparo sempre in testa Deve morire Muoia Ok Anche lei è morta Quante figa siete Non dovete smettere Adesso vi fuci il pompo Perché mi avete poporotto Siete pure in due Meglio per me Così posso sfruttare per bene Il mio fucile a pompa Ecco fatto Sono ancora vive Però le abbiamo già Indebolite un bel po' Infatti due Già sono state sconfitte Ma anche tu Ci hai provato Io mi sono parato in tempo Ed è morta Easy ragazzi Easyissimo Cioè quanta gente Hanno tramutato La famiglia Dimitrescu Sbaglio No mi sembrava un po' più grande Ma forse era semplicemente La prospettiva Ci può morire Grazie Non è per niente Difficile ucciderle Tanto abbiamo un bel po' di proiettili Però col tempo Stanno finendo Dobbiamo evitare di sprecarli Ok Però mi ha anche dato Delle munizioni per il fucile Mi sa che qui si scende Eureka Ethan Bravo bravo Dai andiamo È un ascensore suppongo Ah saliamo Cosa rara nei videogiochi Di solito si scende Sempre di più Verso l'oblio Invece questa volta Siamo saliti Sento un telefono Che sai cosa potrà succedere Qui Ethan salta Avresti avresti rischiato di meno Star arrivando Dimitri Scufo Orse Stai rimani nascosto Ethan Non so come abbia fatto a non vederti Come sta facendo a non vederti O tuttora Incredibile ragazzi Ethan ha sbloccato abilità mimetiche Soprannaturali Niente Non mi ha visto Che succede Sono desolata Ma purtroppo Quel mentecatto di Heisenberg Si è fatto sfuggire Ethan Winters Perché adesso è nel castello E sta dando del filo da torcere Alle mie figlie Quando l'avrò trovato Adesso guarda lo specchio E ci vede No Madre Miranda Sì certo che comprendo L'importanza Della cerimonia Non vi deluderò Ma quindi Abbiamo ucciso Una delle sue figlie O può ritornare in vita Quell'uomo la pagherà davvero molto Molto cara E' infuriata ragazzi Oh cavolo Questa cosa non andrà per niente A finir bene Entra la finestra no Ah cavolo Avere la famiglia Dimitrescu contro Non sarà per niente bello E controlliamo cosa c'è qui Ma Andrea e Miranda Ci ha convocati per decidere Il destino del padre e la bambina Forse possiamo scoprire qualcosa di più Su Rose Pensare a questa famiglia Mi farà brividire Mi disgusto il pensiero Di essere considerata Come una sorella di quei miscredenti Soprattutto Heisenberg Quello zottico Non ha un briciolo di buone maniere Andrebbe preso a schiaffi Quindi non sono una vera famiglia Se madre Miranda Non me lo impedisse Lo avrei già ridotto a brandelli Capisco Perché? Perché mi tratta Come tutti gli altri Lei mi ha dato questo castello Delle figlie obbedienti La vita eterna Quindi anche le figlie Non sono sue Non sono la sua preferita Non sono speciale Ho bisogno di bere E si ubriaca Di sangue Peccato Speravo trovassimo qualcosa di più Riguardante Rose E invece no E invece no Però a quanto pare sì Qui c'è veramente Rose La nostra Rose Dove sei? Era qui dentro quindi? A meno che non sia stata prescelta Per diventare una Figlia Di Dimitrescu È chiusa all'altro lato Ma guarda Lei è andata per di là Meglio per me Questa porta tra l'altro È ancora chiusa Forse adesso possiamo trovare qualcosa Per aprirla qui dentro Ah qui Che cos'è? Chiave di Alcina Sì Alcina Dimitrescu È il suo nome In teoria Mi vuol dire che funziona qui E posso adesso aprire tutte queste porte? Sì Dai Abbiamo sbloccato una nuova parte L'hai sbloccata Ciao zia Come va? Tutto questo a causa di una mocciosa Che non è neanche qui Che cazzo ne fai? Tu miserabile ecolista ingrato Ti introduci nella mia casa Con quelle luride morti Ti permetti di toccare le mie figlie Ma ci siete voi che toccate me? E adesso cerchi persino di rubare Le mie proprietà Come osi Ma mi ha fatto finire al piano lì sotto Ma sul serio dai Siamo ritornati in cantina Merca di goderti questa tregua Perché presto ti stanerò E ti farò a pezzi Cavolo abbiamo fatto arrabbiare la grande donna Ethan Quello che ti pare Quindi Rose non è qui E dove dobbiamo andare allora per trovarla? L'avrà madre Miranda in questo istante? Lo dovremmo scoprire Adesso però cerchiamo di uscire da qui Mi sa che siamo un po' circondati Bellissima la casa che Rispetto a tutto l'ambiente circostante Era luminosissima Ma guarda magari se trovo anche dei Dei mostri cerco anche di non Di non interagirci E proprio di scappare malamente Perché voglio risparmiare proiettili Perché mi sa che prima o poi qui ci sarà una bella boss battle Con Dimitrescu o una delle sue figlie Se non tutte e tre insieme Ma quindi sua figlia è morta effettivamente Non lo so L'abbiamo fatta diventare di pietra Tipo che si è sgretolata Magari Magari può ritornare in vita in qualche modo Oh grazie per tutto questo Molto gentili Tra l'altro C'è una canzone bella Imponente di sottofondo Ma non mi sembra che ci sia niente C'è qualcosa Ma non mi puoi Shottare una mano così Vabbè Come sei arrivata qui Zia Ma che vuoi Mia figlia Mia povera figlia Ethan come la combattiamo senza una mano Non puoi usare la mano destra Diventa sinistro Mancino volevo dire Che come la evito sta zia Problemino Venga per di qua Ah Veloce 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 Curati Non posso usare la mano destra Manco per curarmi Ma sei serio Dove merda scappo Ha aperto la porta sta tizia Mi posso recuperare la mano destra Non ho capito Ah Mano mozzata Beh Sarà utilissima Oh Oddio Vieni di nuovo per di qua Che devo andare io per di là Mamma mia Mamma mia Corri Ethan Corri Ethan Abbiamo scappato da qui Dove 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 Per di qua Per di qua Velocissimi perché se ci prende Quei si è infregati Ho pochissima vita E senza una mano Non mi posso curare Ok si è ripreso Si è ripreso Corri 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 Ah Aiuto Ok la porta Eh Sta cavolo di chiave Sbrigati Ancora non mi posso curare Che cosa devo fare qui La maschera della Ho trovato una maschera Ne devo trovare quattro Vuoi dire che Tutto questo qui Era per trovarne Solo una Scappare Non ti servirà A nulla To To Sul serio Veramente funziona Adesso Magli si Magli si Risistema pure Il vestito Come minimo Non mi dire che Ti ripeglia a funzionare Raga Ethan Ethan non è normale Abbiamo capito Questo castello È sopravvissuto A troppa roba E si è riattaccato Una cavolo di mano Forse ho capito Perché Chris Redfield È arrivato da noi Che cos'è sto verso I lupi Non lo so Oh Ciao Forse Chris Ci è venuto a prendere Perché siamo Strani Dei mostri Non so Mia Si era presa un paio di proiettili Ed era ancora viva Un bel po' di proiettili Noi abbiamo perso una mano Ce la siamo riattaccata Mi sa che non siamo più normali Ivi ci avrà cambiato In qualche maniera Porca vacca Via da me La coltellata pazza Bucchina Mamma te do E mori Oh Ecco fatto Curati T'è andato che È rimesso anche male prima Vediamo di scappare da loro Non voglio sprecare proiettili Metti sta chiave È veloci Fuggiamo via da qui E una volta fuggiti ragazzi Credo anche di potervi salutare Siamo tornati in questo luogo qui Qui c'è una mappa Mappa del castello Buono 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 E quindi ragazzi Io spero che questo video vi sia piaciuto Era il primo video con la webcam Effettivamente Ho avuto un po' di problemi Come avete visto prima Si era frizzata Spero di risolvere il tutto al più presto Però state pronti Perché arriveranno altri video Con questa webcam Ditemi anche cosa ne avete pensato Della webcam Di questa aggiunta Se migliora l'esperienza Oppure no Quindi nel prossimo episodio Credo che esploreremo per bene Questa nuova zona Vero? È una nuova Sì Bella grande E quindi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi